Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire le Vulcano A4 Arc che sono dei diffusori attivi, molto completi dal punto di vista della connettività e anche molto economici. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime recensioni. Iniziamo subito con l'unboxing. Apriamo la scatola che presenta sui lati il logo dell'azienda e anche il disegno stilizzato dei diffusori. Una volta aperta la scatola troviamo il manuale di istruzioni che comprende anche la lingua italiana e dietro di esso c'è anche un cavo ottico. Successivamente poi troviamo una scatoletta di cartone. Andiamo ad aprirla. Sull'interno troviamo il telecomando che è di buona fattura. Poi troviamo una classica coppia di cavi RCA e anche un cavo mini jack da un lato e coppia RCA dall'altro. L'alimentatore che è da 21 volt 1,5 ampere quindi per una potenza totale di 31,5 watt. Poi un singolo cavo RCA che ci permette di collegare un diffusore all'altro. E infine una coppia di batterie mini stilo per il telecomando. Ritorniamo a vedere cosa c'è nella scatola principale. Per togliere facilmente i diffusori senza danneggiarli ribalto la scatola e vado a sfilarla. Ora vado a rimuovere l'imballaggio e anche i due sacchetti di plastica che le proteggono. La finitura che ho scelto è quella nera ma sono disponibili anche in finitura color legno. Questo è il diffusore sinistro ed è quello che non ha l'amplificatore ma è semplicemente un diffusore passivo. Vado a rimuovere anche il sacchetto del secondo diffusore e come possiamo vedere questo è il diffusore attivo infatti presenta dietro tutte le varie connessioni. A primo impatto posso dire che la qualità di realizzazione è buona e sono molto carini. Andiamo ora a vedere i diffusori senza le copertine parapolvere. Hanno un woofer da 4 pollici in particolare 116 mm di diametro e un tweeter da 13 mm. Il diffusore di destra quello che comprende anche le connessioni sul vetro presenta anche un ricevitore infrarossi che presenta anche un piccolo led che ci va a indicare lo stato del diffusore in particolare se il diffusore è acceso o spento ma anche che ingresso è selezionato. In particolare avremo un led blu se attivo l'ingresso bluetooth un led bianco tendente a rosa se attivo l'ingresso ottico lo stesso colore c'è anche quando attivo l'ingresso di linea non so per quale motivo poi una luce rosa che indica l'ingresso usb e infine la luce verde che indica l'ingresso hdmi arc quando i diffusori sono spenti il led indica una luce rossa la classica luce da stand by andiamo a vedere la parte posteriore di entrambi i diffusori che è molto più interessante su entrambi troviamo il condotto reflex che è di buone dimensioni sul diffusore sinistro troviamo un ingresso rca che serve a collegarlo con il diffusore destro che presenta anche lui il medesimo connettore con l'indicazione speaker out sul diffusore destro troviamo poi tre potenziometri in particolare quello del volume quello della regolazione dei toni alti e quello della regolazione dei toni bassi sempre sul diffusore di destra troviamo tre tasti accensione, selezione delle sorgenti e selezione dell'equalizzazione poi troviamo l'ingresso ottico l'uscita sub l'ingresso stereo per segnale classico di linea l'ingresso usb per collegare del pendrive e l'ingresso hdmi arc quest'ultimo è davvero molto interessante infatti l'ingresso hdmi arc permette di collegare i diffusori a uno televisore ovviamente anche il televisore deve avere questo tipo di connessione è un'interfaccia molto diffusa ed è presente anche sui televisori che hanno qualche anno sulle spalle quest'interfaccia oltre a permetterci di trasferire il file audio digitale dal televisore ai diffusori come fa per esempio il classico cavo ottico l'hdmi arc permette di passare anche altre informazioni per esempio il controllo del volume e la gestione dello spegnimento e accensione dei diffusori infatti se utilizziamo questo tipo di collegamento e successivamente andiamo nelle impostazioni del televisore andiamo ad attivare l'impostazione hdmi arc saremo in grado di regolare il volume dei diffusori con il telecomando del televisore e anche di spegnere e accendere i diffusori nel momento in cui andiamo a accendere o spegnere il televisore il che rende questi diffusori perfetti per chi vuole migliorare l'audio del televisore senza dover per forza avere un telecomando o comunque gestire un impianto audio separatamente infatti basta collegarli tramite cavo hdmi arc e se il nostro fine è solo quello di utilizzarli con il televisore possiamo tranquillamente mettere da parte il telecomando dei diffusori ho provato questa funzione su due diversi televisori in particolare su un classico tv samsung led non recentissimo e tutti i comandi funzionavano molto bene poi l'ho provato anche su un lg oled più recente e qui non ho avuto problemi per quanto riguarda la regolazione del volume e l'accensione del diffusori però ho riscontrato un piccolo problema dopo che il televisore veniva spento i diffusori venivano spenti ma dopo circa 10 secondi i diffusori si riaccendevano e rimanevano accesi ho scritto quindi all'azienda produttrice dei diffusori la Vulcano e mi hanno risposto che andranno ad indagare questo tipo di problema e che molto probabilmente rilasceranno un update del firmware dei diffusori che andrà a risolverlo ho scoperto quindi un'altra cosa interessante di questi diffusori che possono essere aggiornati infatti mi hanno spiegato che quando l'azienda produttrice rilascia un nuovo firmware basta metterlo su una chiavetta USB collegarla ai diffusori accenderli automaticamente questi fanno un firmware update quindi andranno a aggiornarsi ripeto invece che con il televisore Samsung non ho avuto nessun tipo di problema andiamo ora a vedere nello specifico il telecomando che è molto ben fatto troviamo il classico tasto di accensione in parte il tasto mute poi il tasto volume più volume meno per la regolazione del volume i tasti traccia successiva, traccia precedente indicati dalle frecce e play-pause che funzionano con l'ingresso USB e con l'ingresso Bluetooth sotto di essi troviamo poi la selezione dei vari ingressi in particolare ottico, bluetooth, arc, line e USB infine nella parte inferiore del telecomando troviamo tre tasti colorati che vanno ad indicare tre diverse equalizzazioni che possono avere i diffusori la prima in rosso è l'equalizzazione movie quindi film quando viene utilizzato l'ingresso arc all'accensione dei diffusori viene sempre selezionato questo tipo di equalizzazione poi in verde abbiamo l'equalizzazione music e in azzurro l'equalizzazione dialog che praticamente va ad enfatizzare la parte dei dialoghi andiamo ora a smontare il diffusore per vedere come è fatto l'interno andiamo a smontare il woofer come possiamo vedere l'altoparlante è ben realizzato e le dimensioni del magnete sono buone se teniamo conto della dimensione del cono il tweeter non andrò a smontarlo tanto è comunque un elemento completamente sestante chiuso quindi anche vedendolo esternamente o vedendo il magnete non possiamo dire nulla sulla sua qualità è interessante vedere cosa c'è all'interno invece del connettore posteriore cosa che però ho fatto purtroppo a telecamere spente e sono andato a vedere il filtro crossover di questo diffusore passivo che è praticamente ridotto all'osso infatti abbiamo solo un condensatore in serie al tweeter in particolare un condensatore elettrolitico da 3.3 microfarad questo condensatore serve a evitare che il tweeter prenda troppe frequenze basse e troppe potenze quindi si bruci essenzialmente andiamo invece ora a smontare il pannello posteriore della cassa destra ecco possiamo vedere che sul pannello posteriore è praticamente avvitata una scheda elettronica che si occupa della gestione di tutta la parte di amplificazione e di gestione degli ingressi dei diffusori adesso andiamo a vederla meglio in dettaglio tramite una foto purtroppo la maggior parte dei componenti è saldata dalla parte opposta quindi non è visibile però da questo lato possiamo notare un piccolo dissipatore che sicuramente serve a dissipare il calore prodotto dal piccolo chip in classe D che amplifica il segnale che va ai due diffusori in basso a sinistra vicino ai cavi rossi e neri che vanno al tweeter al woofer troviamo un condensatore da 3.3 microfarad che è lo stesso che abbiamo trovato all'interno del diffusore passivo quindi possiamo concludere che sono diffusori non bi-amplificati quindi non abbiamo un amplificatore per la parte del tweeter e un amplificatore per il woofer con relativi filtri attivi ma abbiamo invece un classico amplificatore stereo e una specie di mini crossover composto solamente da un piccolo condensatore in serie al tweeter prima di andare a vedere le misure andiamo a dare un'occhiata veloce alle specifiche tecniche che dichiara il costruttore per prima cosa ci vengono indicate la connettività quindi l'ingresso RC analogico, l'ingresso ottico, il Bluetooth 5.0, l'HDMI ARC l'USB per la riproduzione di file da chiavetta e l'uscita su woofer poi la potenza ci dice 25W per 2RMS in realtà sicuramente sono un po' di meno infatti quando funzionano entrambi i diffusori non possono eccedere i 31W totali visto che l'alimentatore che viene fornito è da 31W come risposta in frequenza viene dichiarata da 40Hz a 18kHz vengono indicate le dimensioni del woofer e del tweeter le dimensioni totali dei diffusori e il peso che è di 3,15 kg da coppia andiamo subito a vedere le misurazioni che ho fatto di questi diffusori le misurazioni sono state fatte in un ambiente domestico in particolare in una stanza da circa 25 metri quadrati il microfono di misura è stato posto a circa un metro e mezzo dal diffusore ed è stato utilizzato un segnale di test da 192 kHz 24 bit che è stato applicato all'ingresso analogico dei diffusori il primo grafico che analizziamo ci mostra la risposta in frequenza del diffusore destro quello che ha quindi l'amplificatore abbiamo tre curve perché ogni curva corrisponde a una singola equalizzazione dei diffusori in particolare la curva viola rappresenta l'equalizzazione movie la curva blu l'equalizzazione music e la curva azzurra l'equalizzazione dialog come possiamo notare la curva music e la curva movie sono molto simili per quanto riguarda la risposta in realtà però all'ascolto dei diffusori ho notato che c'è una grande differenza nel senso che nell'equalizzazione movie viene applicata una processazione del segnale che va ad inserire a parer mio dei ritardi o comunque va a maneggiare il suono e rende l'effetto abbastanza sgradevole quindi io non ho quasi mai utilizzato l'equalizzazione movie perché non l'ho trovata particolarmente interessante quindi il grafico della risposta in frequenza è molto simile all'equalizzazione music ma a livello di ascolto la differenza è tanta e preferisco di gran lunga l'equalizzazione music la curva azzurra invece che l'equalizzazione dialog è molto diversa infatti soprattutto per quanto riguarda la parte dai 200 Hz in giù le frequenze basse vengono infatti attenuate di circa 5 dB ciò permette alla parte di dialoghi di essere molto più intellegibile questa è un'equalizzazione che potrebbe venire utile quando andiamo a vedere un video che magari non è registrato al massimo della qualità con un microfono professionale e quindi andando a diminuire l'intensità della parte bassa dello spettro audio andiamo ad aumentare di molto l'intelligibilità della parola e del parlato analizziamo ora nello specifico l'equalizzazione music che è quella che ho utilizzato di più durante i miei test e quella che ho apprezzato di più possiamo notare che la risposta in frequenza del diffusore comincia ad essere interessante dai 65 Hz circa fino ai 18-19 kHz il che è davvero molto buono considerato il prezzo del diffusore e soprattutto le dimensioni stiamo infatti parlando di un diffusore che è largo circa 17 cm alto circa 22 e profondo 15 cm quindi molto compatto per quanto riguarda la fluttuazione della risposta attorno al valore medio possiamo dire che le fluttuazioni stanno in un arco di più o meno 3 dB il che è davvero molto buono l'unica parte del grafico in cui andiamo sotto i 3 dB è attorno alle frequenze dai 2 kHz fino ai 7 kHz più o meno qui abbiamo un avallamento della risposta che scende circa meno 5 dB questo secondo me potrebbe essere un effetto voluto dal costruttore infatti quest'arco di frequenze è quello cui l'orecchio mano è più sensibile e sono quelle frequenze che ci danno quell'effetto di suono tagliente o comunque di affaticamento del suono quindi secondo me questo avallamento della risposta potrebbe essere un effetto voluto dal costruttore per rendere il suono dei diffusori più piacevole, più ruffiano diciamo andiamo ora a vedere la differenza che c'è fra la risposta del diffusore destro rispetto a quella del diffusore sinistro in particolare in viola abbiamo la risposta del diffusore destro che è quella che abbiamo visto precedentemente mentre in azzurro abbiamo la risposta del diffusore sinistro che è quello senza amplificatore per prima cosa notiamo che il diffusore passivo ha un grafico scalato di media circa 2 dB in basso rispetto a quello con il diffusore di destra questo secondo me è un effetto totalmente imputabile al cavo di interconnessione fra i diffusori è infatti un cavo RCA di una lunghezza di circa 3 metri in cui il diametro dei conduttori è davvero molto molto ristretto quindi questo crea una resistenza e fa sì che il diffusore di sinistra suoni leggermente meno rispetto a quello di destra non è un effetto così macroscopico infatti bisogna concentrarsi molto per percepire all'ascolto questa piccola differenza però è possibile percepirla se avete un po' di dimestichezza con il saldatore questo problema si risolve molto facilmente prendendo due connettori RCA un cavo per altoparlanti io vi consiglio con una sezione di circa 2,5 mm quadrati poi basterà saldare sul pin centrale dell'RCA uno dei due cavi mentre sulla massa dell'RCA l'altro cavo in questo modo ci siamo realizzati un cavo per interconnettere i diffusori che ha una resistenza molto più bassa un'altra differenza che possiamo notare nel grafico è attorno ai 2,5 KHz dove la risposta del diffusore passivo ha un buco di circa 4 dB però per un range di frequenza è abbastanza stretto circa 500 Hz quindi il confronto fra i due diffusori non è eccellente però considerando il prezzo dei diffusori possiamo anche chiudere un occhio diciamo che queste sono differenze che si vedono bene sul grafico ma a orecchio non si sentono così tanto come ultimo grafico andiamo a vedere la risposta dei controlli di tono del diffusore la curva viola rappresenta la risposta in frequenza con i controlli di tono messi nella posizione 0 quindi disattivati mentre la curva blu rappresenta la risposta con i controlli di tono al massimo la cosa interessante è che invece di alzare i toni alti e i toni bassi vengono abbassati i toni medi in particolare vengono abbassate di circa 5 dB le frequenze dai 500 Hz ai 5000 Hz mentre abbassando totalmente i controlli di tono otteniamo la curva gialla dove le frequenze sotto i 300 Hz e sopra i 2000 Hz vengono diminuite di circa 5 dB veniamo ora alle note d'uso ho trovato questi diffusori veramente completi e versatili il telecomando funziona molto bene quindi è un attimo passare dall'ingresso bluetooth al cavo ottico per il televisore oppure l'HDMI Arc parlando di suono invece ovviamente non dobbiamo pensare che siano dei diffusori Hi-Fi il suono è molto piacevole però ha dei limiti il primo è la potenza infatti non riusciamo a raggiungere delle pressioni sonore altissime nonostante si raggiunga comunque una buona pressione sonora il secondo limite è la definizione del suono intendo come definizione decadenza del suono forse sarebbe meglio dire infatti con un ascolto approfondito si possono notare delle leggere risonanze che provengono dai diffusori specialmente quando andiamo ad alzare parecchio il volume sono comunque però aspetti che riesce a percepire una persona che è abituata ad ascoltare con dei diffusori molto più prestanti se teniamo conto però del prezzo del prodotto il suono che scaturisce da questi diffusori è davvero molto molto interessante i bassi non sono molto profondi ma sono comunque molto piacevoli mentre le frequenze medio-alte sono molto dolci per niente taglienti ma riescono comunque a mantenere un buon dettaglio la situazione sulle basse frequenze migliora se andiamo a utilizzare un subwoofer come ad esempio il sub 6 prodotto sempre da Vulcano subwoofer che andrò a provare nei prossimi video quindi mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale vi basta infatti cliccare sul mio logo in basso a destra e premere il tasto iscriviti veniamo ora al prezzo di questi Vulcano A4 Arc che è molto interessante infatti vengono venduti su Amazon a 139 euro e a questo prezzo abbiamo due diffusori attivi in legno dotati di telecomando ingressi digitali bluetooth e soprattutto HDMI Arc se non necessitiamo di questa funzione possiamo anche optare per gli A4 standard che sono sostanzialmente gli stessi diffusori ma senza l'ingresso HDMI Arc e ora che sto registrando questo video si trovano a circa 99 euro in offerta su Amazon consiglio questi diffusori a chi ha una di queste tre esigenze la prima è l'esigenza di chi vuole iniziare ad ascoltare la musica in un modo migliore e desidera avvicinarsi al mondo dell'hi-fi senza però voler spendere delle cifre alte con il rischio poi di perdere la passione e quindi di perderci molti soldi con questo piccolo impiantino iniziamo ad ascoltare bene e in stereofonia la seconda esigenza è quella dell'audiofilo che ha già un impianto i-fi magari molto più costoso che però ha l'esigenza di allestire un piccolo secondo impianto magari per un altro locale della casa e sono sicuro che rimarrà stupito dal rapporto qualità-prezzo di questi diffusori la terza esigenza è quella di migliorare il suono del tv posso tranquillamente dire infatti che la differenza tra il suono di questi diffusori e il suono di qualsiasi televisore è abissale l'audio migliore davvero tantissimo sia per quanto riguarda le basse frequenze ma soprattutto per l'intelligibilità e tutto il dettaglio dei suoni sono davvero ottimi per questo scopo e sono secondo me superiori a una qualsiasi soundbar anche dal prezzo più alto sia per la dimensione dei diffusori che è comunque maggiore rispetto alle solite soundbar e sia perché sono una vera sorgente stereofonica quindi diffusore destro e diffusore sinistro e riescono a ricostruire molto meglio una scena sonora di un film veniamo ora ai soliti voti finali alla potenza ho dato un 7 in quanto la pressione che si raggiunge è buona ma non eccellente alla risposta in frequenza ho dato un 7,5 al suono ho dato un 7,5 al design ho dato un 8 perché è un design molto semplice e minimale ma molto piacevole alla versatilità ho dato un 9,5 perché sono veramente versatili e infine il rapporto qualità prezzo ho dato un 9 perché per il prezzo che si paga abbiamo veramente tanta qualità sia a livello costruttivo che anche a livello sonoro grazie per aver guardato il video fino alla fine lasciate un like se lo avete apprezzato e al prossimo video